buongiorno ben trovati dal vostro veterano del fantacalcio vi porto oggi in quel fantastico mondo che è l'app di meggigo l'app fondamentale per il vostro fantacalcio non solo durante la stagione estiva ma durante tutto l'anno visto che in quei mesi da quando sono partite le domande domande risposte che arrivano praticamente in temporale sull'app abbiamo risposto una cosa come 36.000 domande quasi vedete qua il numerino 35.763 domande risposte praticamente giornalmente questo è un grande vantaggio che il veterano e meggigo l'anno tutti gli amici fanta allenatori per creare ancora più community come appunto questa di questa fantastica app questo è il club del veterano e club dell'esperto quello che si propone di diventare di fatto un social importante per i fanta allenatori dove avere tante discussioni ed è in continua evoluzione per far sì che questo club cresca è importante abbonarvi anche al canale del veterano con l'abbonamento avrete diritto all'accesso illimitato a tutte le funzioni premium funzioni che vedremo in questo video tutorial molto veloce ma molto molto interessante in quest'area riservata come vedete ci sono tante funzioni qui in fondo trovate tutti i miei riferimenti legati appunto ai vari social quindi facebook instagram tiktok la famiglia del veterano su telegram e anche a prossimo a brevissimo il sito del veterano veterano.vet tutti i post che verranno importati dal veterano appunto su questa fantastica applicazione qua avrete diritto alle funzioni domande che vedremo tra pochissimo e poi le risorse le risorse sono importanti direi fondamentali per quanto riguarda il veterano e anche voi stessi perché appunto all'interno inserirò tutti i file importanti per affrontare al meglio la prossima stagione ci sono dei file che sono che vanno bene per tutte le stagioni che sono la gestione delle aste con i file excel la quota 100 il libro del veterano il romanzo del veterano una serie di informazioni sui vari rating compreso quello finale compressivo dello scorso anno alla 38esima giornata la griglia portiere ad esempio già disponibile e poi la guida strategica giornata la stagione 22 23 è già disponibile per tutti gli amici abbonati direttamente all'interno qui dell'applicazione magic o quindi abbonatevi con l'abbonamento avrete diritto accesso anche a tutta questa area riservata veramente molto molto importante con l'accesso premium avete diritto come dicevo anche le domande le domande sono importanti comunque c'è anche un'estrapolazione in tutto quello che riguarda l'app di magic goal fondamentale quindi smanettateci un po dentro perché veramente è grandemente importante oggi mi concentro sulle domande ricevute vedete sono le due tipologie sono domande premium e domande standard qual è la differenza sostanziale la differenza sostanziale che nelle domande premium avrete risposta sempre in giornata le domande premium sono dedicate agli amici che sono abbonati che fanno parte del club e quindi hanno prelazione precedenza rispetto alle domande standard le domande standard verranno appunto in un secondo momento risposte mediamente riesco a rispondere a tutte le domande con un intenso traffico chiaramente sarà un po più complicato per questo motivo il consiglio è quello di abbonarvi al canale con una spesa minima appunto è molto molto bassa avrete diritto anche da avere la funzionalità premium in questo caso partiamo ad analizzare per farvi capire come funziona e quali domande potete richiedere direttamente in app magic goal ad esempio ci sono due domande che riguardano chi acquistare per il prossimo campionato quindi ad esempio ci viene chiesto suggerisci un calciatore tra questi tre chiaramente la rosa ancora non è stata completata vedete perché non è ancora iniziata l'asta del fantacalcio quindi siamo ancora in una fase embrionale dell'asta del fantacalcio ci chiede tra i giocatori quale scegliere uno solo le alternative sono scamacca arnautovic e beto una domanda un po complessa anche richiede un po di analisi per questo motivo io me la faccio interiormente e rispondo una faccio una risposta di inserisco le note metto arnautovic indicando però arnautovic ok ma solo con partenza di scamacca all'estero diversamente diversamente andrei su scamacca terza scelta beto così a meno anche chi elegge la risposta a qualche informazione in più questo lo faccio ovviamente per amici abbonati per avere ancora una maggior qualità di risposta quindi facciamo così rispondiamo e la domanda mi sparisce in tempo reale l'amico l'ha ricevuta idem sulla seconda domanda suggericimi tre calciatori tra questi quindi le alternative sono i tre top luca cura osime e lautaro martinez e quest'anno domanda veramente molto interessante molto intrigante io vado comunque sui tre super top perché li vedo ancora un gradino superiore anche lo stesso abraham lo vedo lì al limite ma ancora un pelino sotto rispetto ai super top di reparto per quindi per questo motivo dico che andrei sui primi tre quindi farei lukaku bravo c immobile indicando però che a parità di prezzo a parità di prezzo andrei così di prezzo ok ma se abraham viene pagato 3% in meno dei super top andrei sull'inglese così almeno c'è la risposta già in abbinamento ecco quindi le domande premium sono terminate in questo caso appunto sono andato via anche con le note di risposta passiamo alle domande standard quindi ad esempio ci chiede chi acquistare tra eri e rebici in questo caso ho pochi dubbi andrei su eri perché mi sembra la scelta migliore in questo caso tra abraham e osimè anche qua bella domanda in ogni caso andrei su abraham lo vedo più avanti posso rispondere anche con delle note anche se sono domande chiaramente standard visto che sono abbastanza poche quindi posso rispondere in questa fase dell'anno diventa più facile più avanti diventerà un po più difficile uno scambio quadrado per gossens lo farei perché gossens mi piace di più lo vedo più avanti rispetto quadrado anche in ottica titolarità chi schierare questa è una domanda già per qualche settimana più avanti però comunque ci portiamo più avanti andrei con di lorenzo quadrado mancini andrei su quarta scelta come biraghi quindi questa però una domanda che è chiaramente più avanti rispetto alla stagione attuale che acquistare due tra questi e questa è una bella domanda io fare così diversificare comunque prendere faraoni e andrei su gossens e mi sembra una domanda molto furba molto intelligente un consiglio di acquisto tra cranio e consigli bella domanda anche quando adesso consigli perché comunque mi pare più assettata la squadra nero verde rispetto alla squadra brianzola l'ultima domanda su cui acquistare tra gonzalez henry jovic caputo in questo caso dico jovic mi sembra la scelta migliore tra i quattro giocatori indicati l'ultima domanda è valuta rosa in questo caso è già una proposta di rosa quindi abbiamo fatto praticamente tutte le domande che acquistare chi scambiare chi schierare e valuta rosa abbiamo avuto tutte le opzioni andiamo a selezionare con un più o meno la nostra il nostro gradimento rispetto alla squadra quindi andrei a mettere milenco vicio che mancino che di lorenzo ok demirale quadrado che così come biraghi beresisch mi piace poco acerbi da valutare buonaventura ok frattesi ok l'azzovic ok anche se dovesse partire mandragola barack che andrebbe a chiesa molto bene il centrocampo arnauto vicero a spadori bravi c'è zappata e di bala con simi come cambio da valutare che mette mettiamo a valutare da valutare in base al calcio mercato però comunque direi che è una squadra molto 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 buona perfetto abbiamo risposto anche in tempo reale su questo tema grazie di cuore per averci seguito anche su questo video molto interessante molto importante vi abbraccio scaricate magic ora abbonatevi al canale perché veramente di grande interesse un abbraccio a tutti voi buon fantagaccio ciao ragazzi